Benvenuti signori e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di una cosa molto usata, ma spesso usata davvero male. E tranquilli, non sto parlando del reddito di cittadinanza, sto parlando del panning. Che cos'è il panning? Il panning è esattamente questo. Bene appurato cosa si intende per panning o panoramica, c'è da dire che tante persone lo fanno davvero male. Io stesso fino a poco tempo fa sbagliavo, ma non perdiamo tempo e vi spiego subito cosa va fatto e cosa non va affatto. La prima cosa da fare, la più importante di tutte, in assoluto è iscriversi al canale. Sì, perché se non sei ancora iscritto, so che siamo ancora all'inizio del video, però è importante, mi raccomando. Qua mica vendo fuffa. Tra l'altro è pure gratis. Bene, la prima cosa da fare, la più importante di tutte in assoluto, è la velocità del movimento. Se fate questo, si creano una marea di artefatti. Se fate così, invece, avrete un movimento omogeneo e naturale. E c'è una raccomandazione da fare per capire qual è la velocità perfetta con cui muovere la camera. Ed è questa. Questa è la nostra inquadratura di partenza. L'immagine ha un'estremità a sinistra e un'estremità a destra. Quando iniziate il movimento, contate 7 secondi per arrivare da un'estremità all'altra. E in questo modo avrete un buon punto di partenza, perché con la regola dei 7 secondi, anche se sbagliate di poco il conteggio, non avrete sicuramente immagini con artefatti. E già così siete al 50% dell'opera. Ma non è ancora finita, perché la regola è valida solo se rispettate un'altra regola, quella dei 180 gradi. Ma che cos'è la regola dei 180 gradi? In soldoni, la vostra velocità dell'otturatore deve essere il doppio rispetto ai frame per ogni secondo. Quindi se girate a 24 fps, l'otturatore deve essere settato a un cinquantesimo di secondo. Se non lo fate, esplode la camera. No, ovviamente no, però vi beccate una bella multa per eccesso di pagliacciate. Se non lo fate, semplicemente l'immagine non sembra effettivamente realistica, vera, come lo vediamo con gli occhi normalmente. Quindi bella la regola dei 7 secondi, ma solo se utilizzate l'altra regola, quella dei 180 gradi. Ovviamente potete scegliere di cambiare la velocità dell'otturatore in base al tipo di effetto che volete creare. Per esempio, se volete avere un'immagine più nitida e più clinica, dovreste aumentare l'angolo dell'otturatore. Mentre se volete un'immagine più mossa, più onirica, dovete chiudere l'angolo dell'otturatore. Tuttavia non dipende solo dalla velocità dell'otturatore, ma anche dai frame. Per esempio, registrare una panoramica a 60 fps e rallentarla in post rende ovviamente il movimento molto più fluido e costante rispetto a registrare con i classici 24 fps. Ricordate anche che un sensore più grande permette di avere una velocità di panning superiore rispetto ad un sensore più piccolo. Quindi se utilizzate un telefono che ha un sensore ovviamente più piccolo rispetto a quello di una fotocamera, dovete prestare più attenzione ad aumentare la velocità del panning. Stessa cosa se utilizzate un obiettivo con una focale più lunga e più stretta. Utilizzando infatti un grand'angolo che ha una visuale più ampia, c'è meno possibilità che si creino artefatti. Ultimo, ma più importante di tutti, comprate una testa fluida per il treppiedi. Perché se non avete una testa fluida per il treppiedi, va attaccate. Anzi, la cosa più importante è che vi ricordiate di seguirmi su Instagram per non perdere nessun backstage e per scoprire qualche trucchetto direttamente dal set. Lasciate un bel mi piace se ancora non l'avete fatto e non ci vediamo sabato prossimo, ore 14, sempre qui su YouTube. Ciao!